Da dove? Da dove devo iniziare? Fino a dove? Fino a dove scorre questo fiume? Di dove? Di dove sei? Dove? Dove stanno andando? Da quando? Da quando vivi in Italia? Fino a quando? Fino a quando resterai? Entro a quando? Entro a quando? Dobbiamo fare i compiti? Su chi? Di chi? Su chi? Scrivono? Di chi? Parlano? Per chi? Per chi è la rosa? Per chi hai comprato quel regalo? Con chi? Con chi sono? Con chi fai a cena? A chi? A chi telefoni? Di chi è questo? Contro chi? Contro chi giocano oggi? Su cosa? Su cosa? Di cosa? Su cosa discuti? Di cosa parli? Con cosa è fatta questa torta? Contro chi è la torta? Di cosa è fatta questa torta? Per cosa? Per cosa vuoi questo? Per cosa stai studiando?